Ciao Filippo, eccomi qua, Fabrizio Vitale, Gazzetta dello Sport. Senti, volevo iniziare col chiederti se è stato più difficile recidere il legame con la Juventus, che insomma è sempre una società di alto lignaggio, o decidere di scendere di categoria dopo due anni vissuti in Serie A? Anzitutto buonasera a tutti, nelle scorse due settimane ho saputo di questi interessi e sinceramente non ho pensato al legame con la Juventus, ho pensato a una società, a una piazza che mi voleva a tutti i costi, appena ho saputo il tempo di mettere d'accordo tutte le parti sono venuto. Quindi lasciare la Juventus non è stato né un trauma, ma avevo bisogno di una società e di una piazza che credesse in me e quindi sono venuto qui. Riguardo alla Serie A, insomma, è stata la tua categoria nell'ultima stagione e mezzo, se non vado errato, che cosa spinge un giocatore a scendere in una categoria, che cosa, la voglia di mettersi in gioco seriamente? Sì, un po' anche quello che ti ho detto, nel senso che per un calciatore avere una società che crede nelle tue potenzialità al 100% penso sia la cosa fondamentale. Ho passato un anno e mezzo in cui ho giochicchiato, però non ho mai trovato la continuità di cui ho bisogno e che vorrei. Quindi quando ho saputo di una società così importante che credeva così tanto in me, ho deciso subito. Ciao Filippo, benvenuto, Paolo Vannini del Corriere dello Sport. Non essendoci un dirigente del Palermo, lo chiedo direttamente a te, ecco, con chi hai trattato direttamente in questo periodo e soprattutto hai fatto un contratto molto lungo, fino al 2028, quali prospettive ti ha fatto vedere il Palermo e i suoi dirigenti con cui hai parlato per convincerti a scendere in categoria e comunque a legarti così a lungo, considerato che tu hai un passato anche molto interessante perché sei nel giro dell'Under 21 quindi ti ha scendere in categoria, ma con quali prospettive ti hanno presentato i dirigenti del Palermo per dirti sì, per convincerti che questa era la scelta più adeguata per te? La trattativa è iniziata quando il mio procuratore mi ha informato dell'interesse che c'era e poi è andata avanti tramite lui e il direttore. Per quanto riguarda la durata del contratto, come ho detto, è una piazza che si presenta da sola e che legarmi così tanto non è un vincolo per me. Poi, ripeto, essendoci una società così importante dietro, credo che le prospettive di questa piazza, di questa società, siano molto importanti e questo mi ha convinto a venire qua. Ciao Filippo, Alessandro Arena, giornale di Sicilia, benvenuto. Io ti chiedo semplicemente quale ritieni il tuo punto di forza come aspetto di gioco e in cosa invece ritieni di dover migliorare? Grazie. Il mio punto di forza credo sia la qualità nel gioco, nel gestire la palla e in quest'ultimo anno e mezzo ho imparato molto anche a, sono migliorato nella fase difensiva perché la Serie A ti obbliga a fare questo miglioramento perché l'impatto fisico e il livello dei giocatori ti devi adeguare, insomma. Devo migliorare, credo, in zona goal perché credo di averne fatti pochi negli scorsi anni per quanto invece potrei farne e quindi questo sia, credo, sia il punto che devo migliorare di più. Ciao, sono Giovanni Di Marco, Sky Sport, ciao. Volevo chiederti dal punto di vista tattico dove ti vedi in questo 4-3-3 che ha adottato quasi sempre Corini, se più centrale o da mezzala e poi come stai dal punto di vista atletico, fisico? Hai giocato fino a poco tempo fa, mi pare che la penultima con l'Empoli sei subentrato e quindi insomma sei disponibile, immagino, ma se dovessi dare una percentuale della tua condizione qual è? Io ho fatto praticamente tutte le posizioni, ho giocato in tutti i ruoli perché ho giocato spesso a due, l'anno scorso sempre a due, quest'anno ho fatto il regista però credo in questo modo di poter ricoprire il ruolo di mezzala poi in base alle necessità della squadra e alle richieste del mister io mi adatto, non ho nessun tipo di problema. la mia condizione fisica direi che sia al 100% perché mi sono allenato sempre e ho giocato fino a appunto due settimane fa quindi sì, posso giocare insomma. Ciao Filippo, benvenuto, leandroficarlamediol.it ecco, volevo chiederti l'adottilità, la versatilità è una delle tue caratteristiche principali ne hai parlato poc'anzi, qual è stato il tuo primo impatto con i nuovi compagni e sei già parlato con Colini relativamente al ruolo, a cosa ti richiederà in particolare quale sarà la posizione in questo Palermo a tuo avviso che può esaltare al meglio le tue peculiarità e le tue caratteristiche, grazie. Sì, ci ho parlato stamattina, prima dell'allenamento, abbiamo fatto una chiacchierata generale mi ha descritto un po' il tipo di gioco e come vuole le richieste che ha su di me e il ruolo credo sia appunto quello che ti ho detto, magari la mezzala però con la necessità potrei ricoprire qualsiasi posizione del centrocampo. L'impatto della squadra è stato molto positivo, mi hanno accolto veramente molto bene anche se sono arrivato da poco, però mi sembra che ci sia un bel gruppo e in queste poche ore credo di averlo visto. Ciao, buon pomeriggio, Marco Capone, Palermo Today. Hai parlato prima del campionato di Serie A di come ti richiede un adattamento anche a livello fisico, ti chiedo invece di questa Serie B che idea ti sei fatto, insomma anche guardando la classifica, la società ha sempre parlato di essere competitivi per la promozione in Serie A, ti chiedo insomma tu che sensazioni hai generalmente su questo tipo di campionato, grazie. La Serie B si sa è un campionato molto difficile in cui non c'è nessuna partita scontata in cui l'ultima classificata può vincere con la prima quindi tutte le partite sono difficili e nessun punto te lo regala nessuno quindi questo campionato già l'ho fatto due anni fa e si sa che è molto difficile giocare contro tutti. Salve, benvenuto a Palermo, sono Cettina Pellitteri di Azzurra News. Ti volevo chiedere una cosa, tu lasci l'Empoli che è un'isola un po' felice per i calciatori dove non c'è una pressione così forte anche se la società è esigente e quindi ai calciatori è permesso anche di sbagliare e poter crescere. Con quale spirito tu affronti questa avventura a Palermo, una piazza molto esigente con grandi ambizioni e che sicuramente mette molto più pressione rispetto ad Empoli. Grazie. Sì, credo che sia l'obiettivo di qualsiasi calciatore è giocare in una piazza esigente nel senso che tutte le grandi piazze e le grandi squadre hanno delle piazze esigenti quindi non sarà un problema e sarà solamente uno stimolo avere una piazza così forte dietro che ti stimola quando ne ha bisogno magari o anche il fatto di giocare in casa potrebbe essere sicuramente un vantaggio per noi perché i tifosi sicuramente danno una spinta in più quindi le pressioni fanno parte del calcio e sinceramente sono contento di averle. Ciao, benvenuto. Peppe Musso, Forza Pellano.it volevo chiederti due cose. La prima, se secondo te ci sono differenze tra il campionato di Serie B che hai giocato col Vicenza e la Serie B attuale e poi ti voglio fare una domanda più facile ci credi alla Serie A già da quest'anno col Palermo? Le differenze, te l'ho detto prima, più o meno credo che la Serie B sia sempre quel campionato in cui è difficile giocare contro tutti lo era due anni fa e credo lo sia anche quest'anno e per quanto riguarda la Serie A la società e la squadra insomma ha l'obiettivo di essere competitivi e stare sempre lì in alto e noi cercheremo di dare il nostro meglio per fare sicuramente un grande campionato. Ciao Filippo, benvenuto a Palermo. Francesco Camuca Sportisili. In una recente intervista rilasciata per noi Lamberto Zauli, tuo allenatore alla Juve Under 23, ci ha detto che tu hai le doti giuste intanto per inserirti in un gruppo già formato, in un centrocampo in cui c'è tanta concorrenza. Tu come altri giocatori vieni dalla Serie A, quindi quale può essere l'impatto per te arrivando in corsa in una squadra che comunque sembra avere delle gerarchie abbastanza stabilite in mezzo al campo? Grazie. La concorrenza fa solo che bene a tutti i giocatori, ti permette di andare tutti i giorni al campo e all'allenamento con degli stimoli e con la volontà di conquistarti il posto. Quindi la rossa sicuramente è molto competitiva e io voglio dare sicuramente il mio contributo a questa squadra. Ciao Filippo, benvenuto a Manfredi Esposito Live Sicilia. Volevo chiederti, tu hai scelto il 14, un numero che hai scelto a caso, o c'è una motivazione? E poi volevo chiederti, all'Empoli il direttore sportivo è a Cardi, palermitano, hai parlato con lui ma di venire a Palermo e ti ha detto qualcosa, grazie. Il numero l'ho scelto perché il 14 è la mia data di nascita, poi sinceramente non ce n'erano molti liberi, quindi ho scelto quello. Poi col direttore no, non ho parlato prima di venire qua.